ciao a tutti oggi video tag tutti pazzi per la spesa questo video tag è stato ideato dalle due simpaticissime e bravissime Elena e l'Elisa Elena e elet4full e Elisa Stella Polari Girl vi lascio il link diretto al video qui sotto e vi consiglio di andare a guardare il loro canale perché fanno dei make up stupendi uno più bello dell'altro intanto ringrazio per avermi taggata allora le domande sono 15 sono tutte molto carine e appunto riguardano la spesa ora inizio subito allora da 1 a 10 dunque qualche anno fa magari avrei dato un 10 ora è diventato un 9 però mi piace sempre tantissimo fare la spesa e quasi tutti i giorni si direi quasi tutti i giorni mi piace comprare la verdura e la frutta fresca quando non faccio io il pane lo compro e poi insomma manca sempre qualcosa alla fine la faccio tutti i giorni allora mi piacciono di più i supermercati grandi perché c'è più scelta e così posso sbizzarrirmi di più ci sono più marche prodotti dunque mi piace di più andare all'esse lunga e all'ipercop ci sono anche discount tipo la Lidl e l'ins che è proprio vicino a casa mia mentre quelli che mi piacciono meno sono il Carrefour e poi il PAM anche non mi piace tanto quei due lì Sì di solito faccio la lista mi scrivo le cose che mi servono e faccio una lista non tanto lunga che poi magari sicuramente prendo qualcosa in più rispetto a quello che scrivo nella lista però in genere la faccio sì sì perché altrimenti mi dimentico le cose più importanti preferisco andare con mio marito perché si fa la spesa forse un po' più grande però vado anche da sola e mi piace andare anche da sola però naturalmente magari prendo un po' di meno no non ho un giorno fisso ogni giorno è buono per fare la spesa anche a casa mia in genere vado a prendere subito le cose che mi servono però poi ogni tanto c'è qualche distrazione tra le offerte le novità e perciò poi perdo un po' più di tempo sì mi piace ricevere i volantini per guardare le varie offerte e capita a volte che vado in un supermercato a prendere quel prodotto lì in offerta e poi magari il giorno dopo vado in un altro supermercato dove ci sono altre offerte come dicevo già prima mi piace fare la spesa nei supermercati per mercati grandi sì sì decisamente in negozietti non si trova sempre tutto e allora preferisco andare a un supermercato grande così trovo tutto tranne magari la verdura, la frutta e la verdura che la prendo spesso al mercato perché mi piace di più non ho mai fatto spesa online però penso che possa essere utile magari alle persone anziane o comunque chi non ha la possibilità di andare nei supermercati nei negozi penso che sia utile in genere non raccolgo i coupon qualche volta lo fa mio marito però poco non abbiamo tanto pazienza nel raccoglierli sì compro abbastanza prodotti bio sì ultimamente ne compro abbastanza dipende sì qualche volta prendo dei prodotti di marca perché è da tempo che li utilizzo e mi trovo bene però utilizzo anche delle marche diciamo tarocche perché anche lì si trovano ottimi prodotti non saprei ce ne sono tantissimi c'è il carefull, c'è l'ipercop, c'è il pam c'è appunto l'S lunga poi cosa c'è vabbè a Torino ce ne sono tantissimi poi ci sono tutti i discount idl, l'eurospin, l'ins poi c'è l'ld, md insomma ce ne sono tantissimi diciamo che c'è una vasta scelta allora taggo Beauty Secret Franci Papa Style, Lollina 22 e chi taggo? taggo Erika Orecchio allora le domande sono finite il tag mi sembra molto carino ringrazio Elena e Elisa vi mando un bacione mando un bacione a tutti e se volete ci vediamo al prossimo video ciao